Tra stanchezza, insofferenza e apprezzione per quello che è stato al via da oggi la fase 2, che però per quanto attesa e desiderata non si traduce in un pieno ritorno alla normalità. E' stato questo l'appello nelle scorse ore di molti sindaci blei, da più parti messaggi che invitano a non abbassare la guardia ma al contrario saper miscelare la necessità di riaprire con il sempre possibile rischio di contagio. E' quanto ha scritto lo stesso sindaco di Ragusa, Peppe Cassi e propri cittadini alla vigilia della fase 2. Non è semplice che lo si faccia a Roma, Palermo o Ragusa, trovare la norma che vada bene a tutti e di certo è impossibile prevedere ogni specifico e singolo caso. Si può tornare quindi nei cimiteri, tema tra i più sentiti di questi giorni con una presenza contemporanea limitata. I giardini pubblici apriranno già nelle prossime ore, mentre ancora ci si organizza per evitare l'accesso in quelle aree attrezzate in cui non è possibile garantire le opportune distanze interpersonali come previsto dal decreto governativo. Quanto alle seconde case, ha affermato sempre Cassi, percepisco l'amarezza di chi pensava di potersi trasferire per il solo weekend, ma che invece dovrà rinunciarci almeno fino al prossimo 17 maggio e non per tutto il periodo estivo. Una evoluzione positiva della situazione sanitaria e quindi un ulteriore allentamento delle limitazioni dipenderà dal nostro comportamento in questi prossimi 13 giorni. Consentite le visite ai parenti, ma resta il no secco alle riunioni di famiglia. Oltre il primo cittadino di Ragusa, anche il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha voluto far chiarezza riguardo alla fase 2. Il primo punto riguarda l'attività motoria che da oggi individualmente è consentita anche lontano dalla propria abitazione. Siamo consapevoli che tantissimi concittadini, commenta il sindaco Abbate, si riverseranno verso le zone di mare e di campagna anche chi non ha una seconda abitazione e ci va solamente per fare un po' di attività fisica all'aperto dopo tante settimane passate a casa. Per evitare che le persone formino assembramenti nei luoghi abituali di ritrovo, abbiamo deciso di confermare l'interdizione di piazza Mediterraneo, del lungomare a Marina di Modica e della piazza di Maganuco. Allo stesso modo abbiamo riconfermato la revoca dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico ai venditori ambulanti di merci che non siano alimentari. Questi ultimi invece potranno ritornare in attività il martedì e il giovedì all'interno del piazzale dello stadio Yocatina con ingressi contingentati e rispettando le norme sanitarie. Il sabato ci sarà un terzo appuntamento ma riservato esclusivamente ai mercati contadini che si terrà nel parcheggio coperto di viale medaglie d'oro. L'uso della mascherina sarà obbligatorio solo all'interno dei luoghi chiusi come mezzi di trasporto ed esercizi commerciali. Per tutti coloro che rientreranno in Sicilia da fuori regione è necessaria la registrazione online, la comunicazione al proprio medico di base e ai comuni di residenza o domicilio, quindi bisognerà rimanere in isolamento domiciliare per 15 giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.